Quando si dice che le disgrazie non vengono mai da sole, nell'anno della pandemia di Covid-19, anche San Gennaro ha deciso di prendersi il suo tempo. A Napoli, infatti, non si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue. Quando l'ampolla con le reliquie del martire patrono della città è stata estrata dalla cassaforte, il sangue era solido. Ad annunciare l'accaduto, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, che ha ufficiato la Santa Messa dall'altare maggiore della cattedrale cittadina completamente deserta a causa delle norme anti-Covid. Il miracolo di San Gennaro alla vigilia di Natale commemora il prodigioso intervento del santo che salvò Napoli da un'eruzione del Vesuvio il 16 dicembre del 1631. Quello di dicembre è detto il miracolo laico ed è il terzo appuntamento dell'anno liturgico con la liquefazione, dopo quello del sabato che precede la prima domenica di maggio e quello del 19 settembre, giorno del martirio del patrono di Napoli e della Campania. I prodigi di dicembre e di maggio non si ripetono di sovente, a differenza di quello che accade a settembre, ma secondo la tradizione popolare non è di favorevole auspicio per la città e per i partenopei. Tuttavia i fedeli sperano ancora in un ripensamento del santo. Alle 18.30 è prevista una seconda funzione liturgica, questa volta preseduta dal cardinale Crescenzio Sepe. E allora chissà.